Ecco, la sosia della Boldrini era un sextoy, una bambola gonfiabile. Insomma, quando la satira colpisce una parte, poi l'altra, com'è? Ma guarda, io come Feltri sono ancora incredulo sul fatto che il Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, possa intervenire, il Presidente del Consiglio, i ministri, con carta intestata. Appunto, sembrava che ci fosse stato un attentato. Invece l'attentato l'hanno fatto alla satira qualche anno fa, contro la redazione di Charlie Hebdo, sterminando redattori, persone, morte, e da allora si disse «Je suis Charlie». E Charlie Hebdo fa delle vignette molto più spinte, tant'è che oggi abbiamo intervistato il caporedattore Bia, che è uno dei superstiti di quella strada, e che ha detto «Non solo noi l'avremmo fatta, l'avremmo fatta alzando pure le lenzuola». Cioè, io rimango scandalizzato dal fatto che, per un malinteso servilismo nei confronti dell'attuale Premier, che forse non è neanche bisogno, anzi sicuramente non è neanche bisogno, ciascuno dimentichi quello che ha fatto in tutta la sua vita, non solo giornali che hanno ospitato vignette quando esisteva ancora la satira, non solo giornalisti satirici che adesso sono diventati dei tromboni, non solo Calderoli, ma Calderoli con le vignette ha una storia. Calderoli si presentò al Tg1 con una vignetta che prendeva in giro non un politico vivente, o la moglie di un politico vivente, che è la stessa cosa perché la moglie di Cesare disse Cesare per una storia di corna, deve essere al di sopra di ogni sospetto esattamente come... Ma una vignetta che prendeva in giro è il fondatore dell'Islam, cioè Mahometto, in maniera molto spinta e lui la esibì stampigliata sulla sua maglietta, aprendosi la giacca, al Tg1 da ministro scoppiò una rivolta perché era il periodo della guerra, il terrorismo, la guerra di civiltà eccetera, morirono 11 persone e le rimasero ferite 25 e lui dovette dimettersi e adesso mena scandalo per questa vignetta dicendo che io dovrei riflettere prima di pubblicarla, ma l'ho scelta io quella vignetta perché Natangelo ne fa sempre due o tre, io scelgo quella che a mio gusto mi sembra più azzeccata e più divertente, quindi l'ho scelta io e dice perché poi ne è responsabile, ma io sono felice di essere... Vorrei essere anche l'autore, invece non lo sono, anche se tutti l'attribuiscono a me come se io suggerissi le battute a Natangelo o a Mannelli e a Vauro, lo sa benissimo Vittorio che le vignette le ha maneggiate per una vita, i vignettisti te le mandano e li lasci liberi, non è che gliele commissioni, altrimenti la vignetta su commissione è killeraggio, non è più satira. Anche perché poi se la satira è libera, è libera di fare ciò che vuole e di essere anche giudicata, se non è libera allora ci sono delle restrizioni, bisogna... No, ma l'unico limite come al solito è il codice penale, è ovvio che se io ricevo una vignetta nella quale si fa vedere, non lo so, che la Meloni svaliggia una banca o che un ministro compie atti di pedofilia nei confronti di un bambino, quelle sono cose ovviamente vietate dal codice penale, ma questo è una cosa di... cioè non è che quando la vignetta è come quella di cui stiamo parlando, ma è ovvio, io mi auguro che l'avrebbe pubblicata anche qualcun altro, non soltanto io.